Ehi, abbiamo tutti delle storie terribili da superare e tu... Non è vero. Alcuni di noi hanno grandi storie, bellissime storie ambientate su dei laghetti, piene di barchi, di amici e di ciambella alla marinara. Certo, nessuno in questa macchina, ma per tanta gente questa è la vita. Divertimento e ciambella alla marinara. La cosa che rende tutto difficile non è che per te sia andata male, ti fa più incazzare che per tanti altri sia andata bene. No, io non credo. Non è affatto così. Non è affatto così, eh? Ok.